Perché si dovrebbe vedere la differenza tra i 40 e i 26 Penso che la differenza si vedrà al contrario Sicuramente Per il tipo di vita che facciamo Però va bene, è proprio quello il bello, la particolarità Sei pronta? Tu sei bella però Ti vorrei pronta Sei pronta? Ciao a tutti, sono Giada e questo è un nuovo video Ciao Desiree E' mia sorella e oggi abbiamo deciso di fare i 40 verso i 26 Non sai di perché? Sono la peschella Quindi che intervista? Iniziamo? Sì Via Giada, Desiree Anni 26, 40 Qual è il tuo cartone animato preferito? Rossana Lady Oscar Cantaci la sigla Rossana dai pensaci un po' tu Grande festa alla corte di Francia A palazzo si dorme già La prima volta che sei andata in discoteca Età? 15, 15 anni Sono anziana, ho un vuoto di memoria 22, 23 Attualmente quante volte vai a ballare in un mese? Facciamo un anno, una volta all'anno? Facciamo in un anno, dai Una, due Io sto rifata e brutto Andava sempre una settimana, facciamo anche due volte Cosa fai il sabato sera? Allora, o mi guardo Maria De Filippi che c'è posta per te O mi vedo un film E raramente esco a mangiare qualcosa, una pizza Infatti mi sa che qua bambina sono io Perché esco più di lei Io il sabato sera o pizza o pub O se ci sono le partite Purtroppo andammo a vedere le partite con il mio compagno Va bene dai Sì il sabato si esce dai Ti stucchi prima di andare a letto? Ogni tanto, non sempre Però anche io Ogni tanto Quanto ci impieghi? Cinque, dieci minuti No, io faccio così Lavandino, sciacquo il viso e poi basta Dai che mi metto cremette Un secondo? Un secondo proprio Quindi ti strucchi i mammi Guarda, pure a letto vestita vado Un intanto Tra quanto vorresti avere dei figli? Allora io una già ce l'ho Il prossimo anno vorrei fargli il fratellino Io massimo due anni Serie di voi preferita? Una mamma per amica No, se vi dico questa Poi dopo vi prendete Buuuu 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 Penpix Hai mai avuto un amico di penna? Sì Si chiamava Sara Però non mi ricordo di dove era No, io l'ho mai scritto Il tuo cantante preferito? Adriano Celentano Eh no però è pure il mio Vabbè mia Adriano Celentano E mia Martino A che età hai il primo cellulare? Ma ci avrò avuto 13 anni io 13-14 anni Eh no io ancora giocavo La tua sabbia che piglia A che età hai il primo cellulare? Eh sì Quindi il cellulare è molto tardi Ma poi ci sono l'età per fare il cellulare No 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 Mi sento 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 Completa le canzoni Tu sei solo uno sbaglio da non rifare Io tolgo la librazione al cellulare come un sogno Ma io non la conosco Perché quindi non lo so Prossima canzone Prossima Quell'aria da bambina Io non te l'ho detto mai Ma ce l'andavo matto Quella camminata strana In mezzo a chissà che l'avevi usciuta Nelle stelle d'estate Ma i giochi del padre La palla La voglia Di essere Nude Prossima canzone E come faranno i figli a prenderci sul serio Con le prove che ne Ti buttate dietro Vorrei Ma non posso E ancora un'altra estate arriverà E torneremo un'altra estate all'università E quanto fuori il mare Nazionale popolare La voglia di... Va bene Va bene Va bene Ok Ultima canzone E penso che domani non la so Però io per la canterò lo stesso Ok no io so solamente il pezzo che fa Vivere Vivere a colori Vivere Vivere a colori Ok se state quasi brave Andiamo avanti con la prossima domanda Capelli bianchi? No Due Hai contato? Almeno quelli Due E' bello stanno evidente al massimo Quindi hai due capelli bianchi Sì ma solo due Guarda mi chiede un beletto Danzata barra sposata? Sposata Sì danzata Felice belle Fai la lampada? No No Statuaggi? Sì Uno Uno Le tue scarpe preferite alle medie? No che no Le silver Quel periodo andavano le silver Nelle squalo Sì Io quei zatteroni Orrendi Col sughero nero E bianchi La gioia più grande della tua vita? Mia figlia La mia famiglia E il mio compagno Cosa non sopporti dell'altra? Che è pesante È ripetitiva Cioè devi dire quasi cento volte Magari adesso mi racconta Che sei vista con un'amica sua Tra cinque minuti Mi dice che sei vista Tra dieci moriti C'è una notte Quasi tutto il giorno Se la metta una Se la metta sempre Ok Mi fa male qua Mi fa male là Mi fa male tutto Ok Sono vecchietto Che piace questa Che piace questa Io ho 40 anni e lei se la metta E che cacca Cosa ti piace dell'altra? Che è forte E determinata Tutto quello che vuole fare Riesce a farlo Non si fa problemi Non si fa problemi Niente È una brava mamma Perfetta Non gli posso dire niente A 26 anni Cresce la figlia In un modo fantastico Cioè a mia amicurde Cosa vorresti dirgli in questo momento? Che ti voglio tanto bene Anche io tantissimo Una sorella perfetta Gua che il Maduca Ok L'intervista è finita Ok ragazzi Noi vi ringraziamo Per aver seguito il video E vi ricordiamo Di mettere un pollice in su In caso il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao